Funerali Dona Milcare, Carbonia piange il proprio parroco. Ieri alle 17 si sono celebrate le esequie del sacerdote che da 5 anni guidava la chiesa di San Ponziano a Carbonia. Moltissimi fedeli arrivati da tutto il sulcis per dare l'ultimo saluto al padre. Cronaca, 12enne paralizzata trasferita a Milano. A fine luglio si è tuffata dalla barca nel mare di Carloforte rimanendo paralizzata. Portata d'urgenza all'ospedale Bruzzo di Cagliari, ieri a distanza di quasi un mese, è stata trasferita al Niguarda di Milano. Sant'Antioco ha due eroi. Il 17 luglio sventarono un femminicidio, ora il comune di Sant'Antioco chiede che gli venga assegnata la ricompensa al valore civile. Ennesimo bollettino per allerta meteo. Non si fermano le piogge e i temporali che negli ultimi giorni hanno creato disagi in tutto il sulcis. Anche per la giornata odierna allerta meteo con codice giallo. Bentornati con l'informazione del TG40. Apriamo il nostro telegiornale anche oggi parlando della scomparsa di Dona Milcare che ha sconvolto tutta la comunità sulcitana. Ieri alle 17 si sono svolti i funerali del sacerdote Amato e apprezzato da fedeli e laici. I dettagli. Ore 16 e 30 per le vie della periferia di Carbonia non c'è nessuno. Man mano che ci si avvicina il centro, in piazza Roma, iniziano a scorgersi dei visi. Tristi, rassegnati, camminano a passo lento, trascinato, al ritmo delle campane a morto che si odono dal campanile della chiesa di San Ponziano. La chiesa che spesso è stata protagonista di feste, eventi e ritrovi, ieri è stata scenario dei funerali di Dona Milcare Gambella, suo parroco. Le esequie, iniziate alle 17 e celebrate dal vescovo Monsignor Zedda, hanno visto la chiesa già da tempo prima gremita di fedeli presenti per dare l'ultimo saluto al padre che li ha seguiti per cinque anni dall'ottobre 2013. Alla cerimonia, tra i tanti, anche il sindaco Paola Massidda, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Manolo Cossu, Salvatore Cherchi e alcuni operai del Polo Industriale di Portovesme. E continuiamo parlando di cronaca. A fine luglio a Carloforte una dodicenne rimase paralizzata a seguito di un tuffo trasferita d'urgenza al Bruzzo di Cagliari. Ieri è stata trasportata a Milano per delle complicazioni. Sentiamo il servizio. Il mese scorso si tuffò in mare dalla barca e sfortunatamente rimase paralizzata perché toccò con la testa il fondale. Ricoverata d'urgenza all'ospedale Bruzzo, ieri è stata poi trasportata con l'elissoccorso all'ospedale Niguarda di Milano all'unità spinale. Da quanto si ha preso, si legge sull'Ansa, la dodicenne rimasta vittima di questo incidente, si trovava a bordo di una barca con il padre. Il natante era ancora vicino alla costa e di conseguenza il fondale era molto basto. La bambina si è tuffata in acqua e ha battuto la testa, rimanendo paralizzata. È stato poi lo stesso familiare a soccorrerla e a chiamare il 118. Sul posto è arrivata l'ambulanza ma, viste le gravi condizioni in cui versava la minore, è stato richiesto l'immediato intervento dell'elissoccorso. La capitaneria di porto di Carloforte, cittadina in cui è successo il fatto, ha facilitato l'intervento dei soccorsi, consentendo l'ingresso in sicurezza dell'ambulanza in porto a Carloforte e il successivo atterraggio dell'elicottero che l'ha poi trasportata a Cagliari. È sempre a luglio, però questa volta a Sant'Antioco è stato sventato un femminicidio. Oggi il comune chiede la ricompensa al valore civile ai due giovani che salvarono la 66enne dai colpi di roncola del marito. Vediamo. 17 luglio 2018, Sant'Antioco. Due giovani scongiurano un femminicidio bloccando l'uomo che con una roncola tentò di uccidere la moglie in Piazza Umberto in pieno giorno. Oggi il comune propone al Ministero dell'Interno la concessione della ricompensa al valore civile per il gesto di coraggio compiuto da Daniele Protopapa e Giuseppe Pau. Ieri mattina, infatti, alla presenza del maresciallo dei carabinieri di Sant'Antioco, Antonio Manicone, il sindaco Ignazio Locci ha incontrato la donna e i due giovani. Quello accaduto il 17 luglio scorso è un fatto gravissimo, commenta il sindaco, che non può essere cancellato in nessun modo, ma ci rasserena sapere che la signora oggi stia meglio e abbia potuto incontrare i suoi soccorritori. Nella nostra comunità ci sono persone che non girano la faccia dall'altra parte e trovano il coraggio di intervenire mettendo a rischio anche la propria vita. Tengo a ringraziare anche l'arma dei carabinieri, i cui uomini della stazione di Sant'Antioco sono intervenuti immediatamente a concluso Locci. Apriamo la seconda parte del nostro telegiornale parlando del maltempo che non dà tregua e anche per oggi la protezione civile ha dovuto diramare l'ennesimo bollettino di allerta meteo. Il maltempo non guarda in faccia a nessuno e non importa che sia ancora estate, le piogge e i temporali continuano a sferzare nel Sulcis. Ennesimo bollettino di allerta meteo con codice giallo emanato dalla protezione civile è valido per la giornata di oggi in tutto il Sulcis. Non sono mancati dunque i disagi provocati dalla pioggia. Ieri sera i carabinieri della compagnia di Iglesias sono infatti dovuti intervenire a Vallermosa dove il rio Linus si è ingrossato tanto da far pensare al peggio. A Carbonia invece alcuni quartieri hanno subito un blackout provocato, secondo alcuni abitanti, da un fulmine caduto su qualche linea elettrica. E' sempre il maltempo è stato il motivo per il quale ieri sera Notti Insieme e il momento di commemorazione per Dona Milcare sono stati annullati. Vediamo il servizio di Valentina Murgia. Nonostante i familiari di Dona Milcare abbiano fortemente voluto che il settimo appuntamento con Notti Insieme a Carbonia si svolgesse, il meteo ha deciso il contrario. Sarebbe stato un evento diverso dal solito data la scomparsa del sacerdote Don Gambella. Alle 21.30 infatti in piazza Roma si sarebbe dovuto osservare un minuto di silenzio seguito poi dal lancio in cielo di numerosi palloncini bianchi proprio per ricordare il parroco. Il maltempo che già minacciava con tuoni in lontananza dal pomeriggio ha raggiunto la città di Carbonia alle prime ore della sera impedendo dunque il rito di commemorazione. Ad ogni modo niente è perduto. Il momento in memoria di Dona Milcare probabilmente si terrà mercoledì prossimo. Il comune di Carbonia informa che martedì 4 settembre alle 9 presso la sala riunioni della Torre Civica in piazza Roma si terrà il colloquio per l'assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo amministrativo contabile che opererà nell'ambito del progetto SIA ovvero il sostegno per l'inclusione attiva. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet ufficiale del comune. Si rinnovano gli appuntamenti con le noti bianche sul citane del giovedì. Stasera si può scegliere infatti tra due appuntamenti notti in corso a Sant'Antioco e notti d'estate a Portopino. Entrambi gli eventi hanno lo scopo di divertire e di intrattenere locali e visitatori tra passeggiate, degustazioni, musica e soprattutto le bancarelle ricche di prodotti tipici sardi. Domani venerdì 24 agosto l'Associazione Culturale su Gurugioni e Nirina Miai con il patrocinio del comune di Carbonia organizza e presenta la 26esima edizione della Sagra del Raviolo in piazza Madonna delle Grazie a Barbusi a partire dalle ore 20 e 30. La degustazione delle specialità di ravioli del posto sarà accompagnata da salsiccia, vino e soprattutto dall'intrattenimento musicale organizzato da Ricky e Pabla. Al termine della serata è prevista anche una lotteria con distribuzione di premi a favore dei partecipanti. Mentre per gli amanti della birra sabato 25 a partire dalle 17 a Trattalias si terrà la manifestazione Ismaistus Beer, l'evento organizzato dai produttori locali dedicato alla degustazione delle birre sulcitane ma non solo, anche tedesche, spagnole e italiane. In programma tanta birra, street food e musica per tutti i gusti, dallo scaconi, tasinanska al DJ set. Il nostro telegiornale è concluso, io vi lascio alle previsioni meteo per la giornata di domani e a Noas in Curso a cura di Enrico Puzzolu. Non perdete questa sera alle 21 l'appuntamento con a tutto campo curato da Giancarlo Cancedda. L'appuntamento con il TG40 è per le prossime edizioni, io vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci.